La fluidità dei movimenti e dei corpi che si intrecciano per dar vita alla magia. E' il focus dello spettacolo Gesti d'acqua, conclusione della Masterclass organizzata dalla compagnia di danza Ressa Extensa insieme alla compagnia italo-spagnola Corsia, arrivata per la prima volta in Puglia. Lo spettacolo, con ingresso gratuito e parte del cartellone culturale Le Due Bari, debutterà martedì 1 agosto alle 19.30 al Waterfront di San Girolamo. Il Corsia in Puglia è la prima in assoluto e siamo riusciti a offrire, a fare un progetto articolato, perciò prendo al pubblico, offrendo questa Masterclass che vedete qui alle spalle con i danzatori che vengono da dovunque in Europa, a livello altissimo, e stanno lavorando come i pazzi per questo spettacolo di domani che sarà in prima assoluta e siamo molto emozionati. Io ho dolore sulla guardare loro, sarà speciale, speciale veramente. Abbiamo lavorato in varie qualità di movimento, tra cui appunto quella dell'acqua e della fluidità, quindi appunto sì, vedrete vari pezzettini di quello che abbiamo appunto lavorato durante questa settimana qui. La Masterclass ha visto la partecipazione di circa 30 danzatori provenienti da tutta Europa, selezionati tra un centinaio di richieste, giunte alla compagnia RS Extensa. Un'opportunità unica, giornate durante le quali i partecipanti hanno potuto confrontarsi con artisti che hanno preso parte a produzioni internazionali.